Il programma Garanzia Giovani torna alla ribalta dopo la segnalazione da parte di alcuni ragazzi che chiedono di restare anonimi e che hanno scritto alla nostra redazione per segnalare ancora una volta che ci sarebbero delle anomalie. Ultima in ordine di tempo la email di una ragazza che sente il bisogno di denunciare dice una situazione giunta ai limiti dell'assurdo. Sapevo già che in passato si erano riscontrati problemi con gli ex tirocinanti, dice la giovane originaria della provincia di Sernia, ma mi ero illusa e molti come me che le cose fossero cambiate nel frattempo. Un ragionamento dettato da una speranza comprensibile vista la grave crisi lavorativa che c'è in Molise e che sembra non risparmiare nessuna fascia d'età, neppure i giovanissimi. Quindi, forte di questa speranza, la ragazza agli inizi di maggio inizia a lavorare con Garanzia Giovani ma già dopo tre mesi si accorge che c'è qualcosa che non va. I soldi previsti e promessi non arrivano. Nella sua stessa situazione, denuncia, ci sarebbero anche altri. Ho chiamato varie volte la regione, l'agenzia regionale Molise Lavoro e anche l'Inps rimbalzando come una palla da un ente ad un altro, queste le sue parole. Mi è stato detto che stanno cercando di risolvere un problema, che i fondi ci sono pur non essendo ancora stati sbloccati. Ma dopo cinque mesi i soldi non sono ancora arrivati, nemmeno quelli per un rimborso di spese di viaggio. La speranza di questi ragazzi è che la situazione si sblocchi al più presto.